gentili telespettatori buona giornata enrico letta l'uomo con la felpa coscritto open arms dice che meloni e fratelli italia sono vergognosi cioè vergognosi perché hanno osato presentare una mozione di sfiducia verso roberto speranza il ministro della salute ma la meloni dice la facciamo vediamo chi ci sta la leader di fratelli italia accusa di inadeguatezza e incompetenza il ministro e mira a stanare salvini ma il leader della lega dice governare con pd e speranza non è semplice ma è necessario forza italia dice no assieme alla lega e il pd dice vergognoso cosa ci sarà di vergognoso in uno che ha nascosto e ne ha fatti di tutti i colori non lo so e così giorgia meloni su facebook dice fratelli italia denuncia da tempo l'incompetenza l'inedaguatezza di roberto speranza nel ricoprire l'importante delicato incarico di ministro della salute soprattutto in questo momento storico dalla gestione fallimentare e disastrosa della pandemia alle imprese estremate a causa delle chiusure insensate e continue fratelli italia presenterà dice giorgia meloni una mozione di sfiducia nei suoi confronti e vediamo chi si assumerà la responsabilità di tenerlo ancora al suo posto non è più tempo di speranza ma di coraggio la replica di letta segretario del pd è questa una sola parola vergognoso beh il l'obiettivo di giorgia meloni anche quello di rompere il fronte della maggioranza e di stanare matteo salvini che quotidianamente attacca speranza dice ma visto che salvini attacca speranza dalla mattina alla sera facciamo una bella mozione di sfiducia lo mandiamo a casa ma a quel punto la lega si ritira e dice no ma noi non vogliamo cacciare speranza noi vogliamo che lui cambi lui deve cambiare ma salvini proprio l'altro giorno a draghi aveva chiesto esplicitamente di rimuovere speranza ma salvini lo vuole rimuovere rimuovere con il governo non vuole che sia una mozione di sfiducia che metterebbe la lega ai ferricorti con draghi e nelle condizioni anche di uscire dal governo e chissà con una mozione di sfiducia che che ha diverse possibilità di passare se tutto il centrodestra fosse unito potrebbe anche fare cadere il governo non è la prima volta in italia che cade un governo per una mozione di sfiducia a un ministro ma salvini in queste ore pur non rinunciando le sue critiche è sembrato non intenzionare ad affondare il colpo dice non è semplice governare col pd e speranza ma è necessario essere al governo permette di decidere anche come spendere i soldi che riceveremo dall'europa ripeto stare con speranze con il pd non è la cosa più semplice del mondo ma era giusto fare così noi andiamo avanti nella richiesta di curare gli italiani e tornare a lavorare se qualcuno ha sbagliato qualcosa il tempo sarà galantuomo gli italiani lo sapranno forza italia non ci pensa minimamente ad aderire alla richiesta di giorgia meloni e dicono così non siamo favorevoli le sfiduciare nei confronti del ministro speranza che si sta impegnando si è spinto a dire antonio tagliani coordinatore nazionale del partito di berlusconi quando sarà finita la pandemia valuteremo responsabilità e colpe di politici e scienziati i numeri così come sono garantiscono a speranza di continuare il suo lavoro anche perché così mancano i numeri anche per presentare la mozione di sfiducia ci vogliono dei numeri minimi al senato e al parlamento e fratelli italiani da sola non ce li ha ci voleva tutto il partito della lega tutto forza italia con altri senatori che stanno appoggiando come paragone come sgarbi e altri dei gruppi dei vari gruppi misti alla camera al senato il centrodestra al senato la poteva assolutamente spuntare e avrebbe proprio potuto buttar giù speranza e forse buttar giù anche il governo e andare alle elezioni anticipate ancora si fa a tempo ma no la lega e forza italia dicono no mario draghi vi ci sono stato io a scegliere lo speranza aveva ribadito nel corso dell'ultima conferenza stampa ma non sappiamo perché ci sono diversi retroscena che invece raccontano una realtà diversa un draghi che preme perché speranza dia le dimissioni da solo e dopo l'annuncio di giorgia meloni interviene anche letta che dice il ministro viene messo alla gogna dice letta piazza pulita è incredibile una vergogna la mozione di sfiducia nei confronti di speranza e difende poi l'operato del ministro dice penso che abbia fatto un ottimo lavoro e stia resistendo a richieste di riaperture che arrivano da una parte e dall'altra a sostegno di speranza si schiera anche la federazione degli ordini dei medici dice e dicono così abbiamo apprezzato le parole del ministro della salute roberto speranza che nell'informativa resa alla camera dei deputati ha chiesto di ascoltare i medici parole che non sono peraltro vuote di significato ma che corrispondono al fattivo impegno che il ministero ha dimostrato in quest'anno di pandemia dichiara il presidente filippo anelli quindi il ministro dice ascoltate i medici e i medici dicono non toccate speranza ha detto di ascoltarci un po siamo al convenienze che dite insomma possiamo dire che la mozione di sfiducia non riuscirà neanche ad essere presentata per mancanza di numeri senza la lega e senza forza italia non ci sono i numeri minimi al senato e a montecitorio per poterla presentare quindi non andrà neanche in discussione ma giorgia meloni lo ha fatto per diversi motivi prima di tutto lo fa per per sfiduciare speranza lo fa perché la lega non gli vuole dare il copasir lo fa anche per mettere nell'angolo salvini e dire beh parli tutti i giorni di speranza lo vuoi cacciare detto anche a draghi bene cacciamolo e la lega dice di no quindi il come dicevo ieri scaccomatto di giorgia meloni perché è riuscita a mettere la lega in un angolo di fronte soprattutto al suo elettorato il suo elettorato della lega è molto attento a tutto quello che succede in fratelli l'italia e nella lega come si comportano i due leader i voti il 40 per cento degli italiani quattro italiani su dieci sono elettori di salvini e meloni e sono molto attenti a quello che succede tra i due leader e questo sinceramente è abbastanza quello che è successo per la sfiducia a speranza il copasir che poi magari fra qualche giorno alla fine daranno questa presidenza del copasir a giorgia meloni però tutto quello che è successo prima no 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 porta un danno al partito della lega sono dei danni alla lega questi in termini di elettori che vanno via io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata